Noi stiamo provando a costruire un campo largo anche in questa realtà dopo averlo fatto bene con Maria Ida Episcopo a Foggia. Il Partito Democratico vuole ribissare questo schema di lavoro che tiene il Partito Democratico, le forze civiche che si richiamano Presidente Emiliano, il Movimento 5 Stelle, è evidente che poi però nei livelli locali incidono alcuni aspetti particolari, ma l'indicazione della Federazione Provinciale e devo dire su questo anche della Direzione Nazionale, da quale faccio parte, con Eli Schlein che ha sempre sposato il modello Foggia, noi vorremmo ripeterlo anche nei grossi centri della provincia di Foggia e su questo stiamo lavorando sui contenuti e stiamo lavorando per tenere un campo solido. Grazie.